E salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, siete oggi ancora sul canale di Pringiluka Tech Ragazzi, in un ambiente totalmente diverso da quello che vedete in genere sul mio canale YouTube ma avevo intenzione di ricreare un video un po' più informale dove vi andrò a parlare della seconda collaborazione che faremo io, Pringiluka Tech e Francesco Arcello del canale omonimo Quindi ragazzi, direi di non perderci in chiacchiere e di iniziare subito Oh ragazzi, oggi ho fregato, sia la location che il computer alla mia ragazza e lei che è una scrittrice non potrà assolutamente lavorare, quindi per ripagarla vi lascio il link dei suoi libri qui sotto in descrizione Ma ragazzi, dato il design di questa location, ho deciso di portare degli accessori super curati per quanto riguarda il design Partiamo con Native Union che se non lo conoscete ragazzi, crea degli accessori per Apple soprattutto Apple in realtà, davvero e super extra curati Quindi direi di partire con una dock station per Apple Watch che se voi non lo sapete, da poco ho acquistato un Apple Watch ma se non lo sapete è perché non mi seguite su Instagram e quindi vi lascio il link qui sotto in descrizione della mia pagina di Instagram Ragazzi, questo accessorio è super fantastico con questa base girevole, sembra quasi un mattone appoggiato lì sulla scrivania e ragazzi, credo che ve lo porterò assolutamente sul mio canale YouTube quindi andate ad iscrivervi subito Detto ciò, passo la palla a Francesco per il suo secondo prodotto Salve ragazzi, sono sempre Francesco Arcello del canale Omonico In questa mia parte di video, poi per le altre tre offerte vi aspetto sul mio canale vi parlerò del Fresh & Rebel Rockbox Ormai questo speaker è iniziato con il prezzo di 59,99€ ma è sceso a 45,99€ e già 60€ è un ottimo articolo, figurategli a 46€ Davvero perfetto, comandi touch, ottima esperienza sonora e soprattutto una bellissima estetica Quindi per l'offerta più dettagliata trovate il link qua sotto giù in descrizione In descrizione trovate ovviamente anche il link al mio canale nel quale vi aspetto per la seconda parte di questo video Ciao Grazie Francesco e ragazzi direi di passare all'ultimo prodotto Ho scelto uno speaker bluetooth dal design che mi è piaciuto davvero tantissimo Probabilmente lo speaker bluetooth che preferisco in assoluto per quanto riguarda il design perché è davvero curatissimo con la possibilità di mutare il suo aspetto grazie alla possibilità di sostituire il rivestimento esterno cambiando anche i materiali, i colori che ragazzi è qualcosa di superlativo vi lascio le immagini scorrere qui da qualche parte perché è davvero perfetto Credo che la sua qualità audio grazie alle recensioni che sono riuscito a captare e probabilmente ve lo porterò qui sul canale quindi riuscirò a testarlo io con le mie mani questo speaker ha una qualità audio davvero elevatissima è vero anche il prezzo non è dei più economici ma ragazzi devo dire che ci azzecca benissimo con questa tipologia di speaker bene ragazzi il video finisce qui grazie Francesco per essere stato ospite qui sul mio canale youtube e voi ragazzi andate subito al canale youtube di Francesco che vi lascio qui sotto in descrizione per andare a vedere l'altra parte di questo video e soprattutto vi dovete iscrivere al suo canale youtube quindi ragazzi io vi saluto qui noi ci vediamo domenica sempre qui sul mio canale youtube grazie a tutti grazie a tutti